Ciao a tutti ragazzi, buona luce. Esorbe un campionato dell'attaccante della Svanza City. Monique, che abbiamo acquistato, per 25 milioni di euro. Purtroppo il Liverpool ha pareggiato la prima fuori casa contro il Manchester City, ha perso la seconda e la 2-1 in caso che fu. Quindi un inizio non entusiasmante per lei. Attenzione, attenzione. Anderson è grande sorpresa. Andamè attenzione, due partite su due. È in uno stato di forma stretitosa. Salute. Siamo, sono. Grazie a tutti. 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 Marco Verratti. Marco Verratti. Marco Verratti. Marco Verratti. Grazie a tutti. 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 forte, potente, grande tecnica e si vince, signori, 3-0